Qualche settimana fa proprio qui sul nostro canale ho pubblicato la recensione del Redmi Note 8 Pro definendolo come l'erede di Redmi Note 7. In realtà mi sbagliavo, ma in quel momento ancora non sapevamo che di lì a poco Xiaomi avrebbe portato in Italia anche questo Redmi Note 8T, che effettivamente ha ancora di più in comune con quello che è indubbiamente stato uno degli smartphone di maggior successo per l'azienda cinese. Lo sto usando come mio smartphone da qualche giorno, ci sto facendo tutto quello che faccio solitamente anche con i top di gamma e quindi è giunto secondo me il momento di raccontarvelo come si deve. Comincio parlandovi dell'aspetto estetico, che solitamente è la parte un pochino più pallosa, ma che qui è in realtà particolarmente importante perché è poi uno di quei motivi per i quali questo Redmi Note 8T è più vicino al Redmi Note 7 di quanto non lo sia la versione Pro. Se lo osserviamo da dietro, questo smartphone richiama infatti molto il modello di inizio anno, molto più di Redmi Note 8 Pro. Sono tre però gli elementi secondo me importanti nel design di questo smartphone, due protagonisti in senso positivo e uno invece un po' più negativo. Comincio proprio da quest'ultimo, ovvero il modulo che contiene le fotocamere, una formazione a semaforo che sporge parecchio rispetto alla scocca e che quindi è la prima parte del prodotto a toccare il piano di appoggio con due conseguenze spiacevoli. La prima è che le lenti rischiano di rovinarsi più in fretta e lo smartphone poi come seconda conseguenza è sbilanciato quando lo utilizziamo appoggiato al tavolo. Fortunatamente in confezione c'è una cover in silicone con un bordino leggermente sporgente che è studiato apposta per risolvere entrambi questi problemi. Il secondo elemento degno di nota è invece nella cornice che è in plastica rigida con una finitura cromata che la fa sembrare alluminio anche al tatto e che ospita il carrellino per la sim che è in grado di integrare al suo interno due sim in formato nano e una microSD. Non è una novità assoluta ma qui è particolarmente importante perché la versione base di questo smartphone offre 32 giga di memoria di storage e questo tipo di soluzione permette di espandere la memoria senza rinunciare però alla doppia sim. La terza segnalazione che voglio fare riguarda invece la parte frontale dove troviamo un display da 6,3 pollici di diagonale con un piccolo noccia a goccia che non dà per nulla fastidio e al quale non farete più caso dopo pochissime ore di utilizzo. Parlo però del mento di questo display che è esteticamente non il massimo anche perché Xiaomi ci ha piazzato il logo Redmi proprio al suo centro e che di certo non contribuisce a nasconderlo ma che in realtà ho poi imparato ad apprezzare dal punto di vista dell'ergonomia. Quello spazio occupato dalla cornice permette infatti di spostare leggermente più in alto gli elementi dell'interfaccia e di raggiungerli quindi più semplicemente tenendo lo smartphone ben bilanciato in mano. Detto questo resta un prodotto ben costruito senza scricchioli o cedimenti con un ottimo lettore di impronte digitali veloce e estremamente preciso e con tutto quello che serve al posto giusto compresa la Type-C, il jack per le cuffie, sensore infrarossi che non è fondamentale ma è sempre comodo e uno speaker mono con un audio di qualità discreta diciamo allineato con la concorrenza e con un buon volume sia in viva voce che quando invece andiamo a riprodurre contenuti multimediali. Dato che vi ho accennato le dimensioni del display poco fa ve ne parlo subito un pochino più nel dettaglio. Si tratta di un'unità da 6,3 pollici diagonale con risoluzione full HD plus e tecnologia IPS protetta da un Gorilla Glass 5. Un display ampio che ben si adatta alla maggior parte delle istituzioni di utilizzo grazie a un'ottima luminosità e a dei neri comunque abbastanza profondi. Non siamo sicuramente ai livelli di un AMOLED top di gamma ma non possiamo certo lamentarci di un rapporto di contrasto di oltre 1301 che quindi ci permette anche in esterna di osservarlo bene anche sotto la luce del sole. I colori sono tutto sommato corretti con dei delta E molto vicini alla soglia di tolleranza sia per i colori che per la scala dei grigi. Veniamo quindi alle fotocamere che sono 4, anzi se consideriamo anche quella frontale siamo addirittura 5, ma i 4 moduli che costituiscono il comparto principale sono tutti racchiusi in questo semaforo e differiscono tra loro per funzioni e caratteristiche. Il principale è un sensore da 48 megapixel che non è il classico Sony ma un più recente Samsung con una lente standard con apertura f1.8. A seguire troviamo la grande angolare da 8 megapixel con apertura f2.2 e due ulteriori sensori da 2 megapixel, una con lente macro e uno destinato alla raccolta di informazioni sulla profondità di campo. C'è la possibilità di effettuare uno zoom 2x in maniera rapida direttamente dall'interfaccia della fotocamera ma si tratta comunque di uno zoom digitale, non abbiamo infatti nessuna lente dedicata. L'effetto che otteniamo è comunque molto buono perché in sostanza viene effettuato un crop a 12 megapixel della foto scattata originariamente a 48. La fotocamera principale funziona molto bene di giorno ma diciamo che ormai è una caratteristica che ritroviamo sulla maggior parte degli smartphone anche di fascia inferiore a quella di questo Redmi Note 8T. La messa a fuoco è veloce, la gestione di colore è corretta e la funzione dell'HDR svolge il suo lavoro senza particolari problemi. Anche di notte però con questo smartphone è possibile togliersi delle belle soddisfazioni grazie alla modalità notturna che funziona appunto solo con la fotocamera principale e ci permette di ottenere scatti più che buoni anche quando la luce scarseggia. La fotocamera grandangolare offre invece il meglio di sé nelle ore diurne o comunque in presenza di un buon quantitativo di luce. Non potendo infatti sfruttare la modalità notturna con questa accoppiata di sensore e lente le foto scattate di sera soffrono di un importante rumore di fondo, una gestione delle luci non esattamente ottimale quindi se potete limitatene l'utilizzo alle ore diurne. La fotocamera macro è invece sicuramente la più particolare tra le fotocamere di questo Redmi. Ha una lente che ci permette di mettere a fuoco da distanza estremamente ravvicinata, addirittura inferiore ai 2 cm e in questo modo si ottengono degli scatti che sono, potremmo definirli curiosi e che permettono in molti casi di avere un punto di vista inedito. Il vero limite di questa fotocamera sta nel fatto che il sensore è molto piccolo e la lente non è nemmeno luminosissima. Per questo motivo è bene limitare l'utilizzo della macro, anche qui come per la grandangolare, alle situazioni di luce ottimale, quando riusciamo quindi ad avere più dettagli nel soggetto a fuoco e un morbido sfocato sullo sfondo molto molto piacevole. Un cenno anche alla fotocamera frontale, caratterizzata da un sensore da 13 megapixel e offre prestazioni nella media del segmento di mercato. Le foto realizzate sono buone, non eccezionali, ma comunque si allineano alle alternative, specialmente di giorno con tanta luce, ci sono tanti dettagli e una buona gestione del controluce. I video raggiungono una risoluzione massima di 4K a 30fps, non c'è stabilizzazione ottica, ma quella elettronica fa un discreto lavoro ed ha il meglio di sé in Full HD quando si uniscono anche i 60fps che contribuiscono a rendere tutto più fluido. Molto veloce la messa a fuoco, così come la regolazione dell'esposizione, peccato non ci sia la possibilità di cambiare lente durante la registrazione e che la grandangolare sia limitata al Full HD. Dentro a questo Redmi Note 8T troviamo poi un system on chip Qualcomm Snapdragon 655 che ormai conosciamo meglio delle nostre tasche e che rappresenta un upgrade quasi fisiologico del 660 che invece avevamo dentro Redmi Note 7. Nella sostanza cambia ben poco, la CPU ha un processo produttivo più ottimizzato mentre la GPU è ora un Adreno 610. Non sono riuscito a capire la tipologia di immoria utilizzata, potrebbe trattarsi di una OFS 2.0 un pochino lenta oppure di una MMC veloce, in sostanza però abbiamo velocità di lettura e scrittura di 320 e 180 Mbps. Un hardware che andava bene su Redmi Note 7 e che va altrettanto bene su questo 8T. Se vi serve uno smartphone che copra tutte le funzioni basilari senza arrancare qui trovate sicuramente quello che fa per voi. Ci potete navigare, guardare video su YouTube, Netflix, giocare con la maggior parte dei titoli che trovate sul Play Store e gestire la vostra mail in tranquillità. Insomma tutto quello che rientra nella routine del 90% e forse più degli utenti. Bene la ricezione in tutte le situazioni così come la velocità di aggancio del GPS e di rilevamento della posizione. Io lo uso spesso come navigatore e non ho mai riscontrato problemi. A differenza di Redmi Note 7 poi qui abbiamo anche l'NFC che ci permette di abilitare i pagamenti contactless oltre al Wi-Fi Dual Band, 4G Plus e Bluetooth 5.0. Insomma c'è davvero tutto quello che vi serve. E chiudo parlandovi di autonomia. La batteria è da 4000 mAh e complice l'hardware che è sicuramente poco dispendioso, non sarà praticamente mai un problema arrivare a sera. Anzi, con un utilizzo non eccessivo si riesce a coprire tranquillamente le 36 ore che ci permettono di portare a termine anche il secondo giorno. C'è il supporto al Quick Charge 4.0 e in confezione troviamo un caricatore da 18 Watt. Insomma, tirando le somme, come vi ho detto inizialmente, lui è decisamente il più naturale successore di Redmi Note 7, del quale migliora alcuni aspetti come ad esempio le fotocamere, il sistema on chip, la presenza dell'NFC, mantenendo però la caratteristica più importante, ovvero un prezzo assolutamente abbordabile. Parliamo di 199€ per la versione 3.32 disponibile su Mi.com, Amazon e nei negozi di elettronica e 229€ per quella 4.64 che per quanto riguarda la vendita online è un'esclusiva a Mi.com. Proprio in queste ore però in occasione del Black Friday questi prezzi scendono rispettivamente a 179 e 199€ e credo che torneranno spesso a questi livelli anche in futuro. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Redmi Note 8T, se magari lo avete già acquistato o siete in procinto di farlo e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate le notifiche. Ciao!